Abbiamo aderito sin dall'anno scorso a un progetto di portata nazionale, si chiama Guardiani della Costa. I ragazzi sono molto sensibili a questi problemi ambientali, come del resto ci insegna la cronaca. Sin dall'anno scorso i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo, si sono dotati di attrezzi per pulire, per dare alle nostre spiagge quello che meritano, cioè la bellezza e la pulizia. L'anno scorso hanno addirittura fatto una rappresentazione teatrale molto bella. Quest'anno hanno pensato a un flash mob, il mare in un abbraccio, sentirsi vicini l'uno con l'altro e dare questo messaggio che il mare è nostro e per essere veramente fruibile deve essere pulito. Questa è un'iniziativa che li ha visti veramente molto entusiasti. E poi la scuola non è nuova a queste manifestazioni, perché pochi giorni fa la nostra partecipazione al Varo del Vascello, del Brigantes, che è stata anche una bellissima iniziativa, i nostri ragazzi del turistico hanno fatto l'accoglienza in questa bella iniziativa, in questo momento ufficiale del Varo. Oggi la manifestazione è stata comunque una bella iniziativa e sostanzialmente noi ci siamo tutti abbracciati, possiamo così dire, ci siamo messi appunto sul lungomare d'Antalighieri e sostanzialmente ci siamo abbracciati in questo modo, abbiamo fatto una sorta di onda con diversi riferimenti, quindi diciamo come appunto questa sorta di abbraccio, quindi come se abbracciassimo il mare e quindi insomma, e tra l'altro tutti uniti, quindi proprio perché deve essere una cosa che dobbiamo fare tutti.